salve a tutti video misterioso registrato in colombia guardate questo strano oggetto che vola nel cielo qualcosa di straordinario pazzesco non lo so ragazzi una luce rossa che viaggia certamente non è un meteorite e non so neanche cosa sia quindi escludo che possa essere un meteorite o altro quindi è qualcosa che si muove come ben potete vedere nel cielo notturno e sinceramente non so proprio cosa diavolo potrebbe essere io ho pensato un ufo questo è quello che più può sembrare logico e razionale perché ripeto un asteroide un bolide di fuoco non è quindi è qualcosa che si muove nel cielo come un ufo solo che ha un colore straordinario rosso come se fosse plasma non lo so come sempre ragazzi lasciate il vostro commento il vostro giudizio e come sempre dico ragazzi al prossimo video ma soprattutto al prossimo mistero